Intanto buonasera a tutti, grazie per essere venuti qui a Montenegro, per ricordare qui da un po' di tempo, con l'ormai ruotatissima sessione ritmica Franco Romano con il basso e Angelo Romano con la batteria. Proseguiamo con un pezzo di Elmore James, lui era al solito, io lo chiamo il reverendo, Elmore piacevano poche cose ma probabilmente quelle giuste, le donne erano alcune. Dopo che finiva di bere, li rompeva le bottiglie, ne ricavava il collo delle bottiglie, noi oggi ne visiamo che sia la pane di ottone e produceva che si suoni qua questa musica con Bob Mack, cose delle bottiglie, e ha scritto delle cose molto interessanti, questa si chiama Can't Stop La, di Elmore James, più o meno così. Ilmore James, più o meno così. La, di Elmore James, più o meno così. Ilmore James, più o meno così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.